Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi vi farò vedere come scaricare e installare Payday 2 Un gioco di rapine molto famoso Ebbene allora, vi lascerò il link in descrizione Anzi ragazzi l'ho scaricato proprio adesso e mi è finito il download Il peso è 11,6 giga Vi lascerò il link in descrizione che è dal sito di Kikestorrent Poi se chi fate il download torrent ve lo scaricherà Bene ragazzi all'interno, quando arriverete a un torrent Fate allora sul gioco, tasto destro, aprivate il download e continua Vi scerranno tutte queste cartelle Tutte queste cartelline, sì Archimuth, gifrar, applicazione, parte 1, parte 2, parte 3 Redmin, fast, v.nost, steam, vabbè Quello che non ci interessa di più è questo, la parte 1 E cosa dobbiamo fare? Tasto destro E se chi vi come amministratore Aspettiamo che carichi Carichi Scusate ragazzi ho fatto proprio una figura proprio di cacca Come si può dire Allora, andiamo tutte e due volte Schiacciamo Vediamo se ce la fa Caricare Caricare Aspettiamo Dai, Mina Guarda, non ci vuoi Dai Perché non me lo fa aprire? Ah, sa scaricare Stai estrendo il file? Quanto ci vuoi? Le 38 minuti Oh mio dio ragazzi Cosa è questa? Parte 1 Ah, sta di meno Vero male, poco a poco Poco, poco a poco Ok ragazzi Ragazzi io metto in pausa Leggo qua Quindi lascerò alla fine del download Via Eccoci ragazzi Abbiamo fatto il file schiacciando due volte Qui Io lo sento aspettare Guarda che idiota che sono Allora Ah, mi è uscito pure due volte Ah, sì Non di mai ci è uscito Cos'è questo? Ah, l'altanto sta starendo La parte 2 La parte 1 Va bene ragazzi Allora Qui ci direi dove installarlo Allora Io vorrei installarlo Allora Dove? Vediamo Installiamo Ah, vado Questo è il pc Ah Un po' di rom Brambo 86 Diciamo ok E metto E metto Ehm Che so Cioè Vediamo Cos'è Vediamo Vediamo Ah sì Come devo fare Aspettate ragazzi Gainz Gainz dove eh Ragazzi Dove vuole dire Gainz Ah mi sa Dove essere Ah ragazzi Io voglio installarlo Qua voglio installarlo Programmi per 86 Voglio installarla Installazione Vai Diciamo Install Ah ok Estraendo i file Ok ragazzi Ehm Ci vediamo Dopo Per il Delore Alla fine del delore Ok Ciao ragazzi Ok ragazzi Ci siamo quasi Ehm Un attimo Ecco ragazzi Ci siamo quasi Allora Questo intanto Ecco ecco Allora Qui è estratto La parte 2 Adesso forse Sta cominciando Ad estrarre La parte 3 A me mancano Per la parte 3 Guardate Eccola qui La parte 3 La parte 3 Ehm Ci mette 2 5 2 2 minuti 50 Ci ho messo In totale Ci ho messo In 4 Quindi ragazzi Ci siamo quasi Vedete Ho già estratto La parte 2 Vedete Vedete Ho già estratto Questa E poi Sta estrarne Adesso Questa qui Ragazzi Che sta Stendendo L'altra parte E vedete Andiamo in via Ok Siamo quasi Ragazzi Ragazzi Ci vediamo Alla fine Della Della parte 3 Ragazzi Siamo tornati Ehm Ehm È stato Il La parte 3 Ma la sta installando Ok ragazzi Ci siamo quasi Possiamo pure Aspettare Normalmente Per esempio Per esempio Per queste cose Le pause Ragazzi Ehm Così questo gioco è molto bello si tratta sempre di rapine molto organizzate bene c'è sono armi c'è maschere, buono più bello però anche lo online questo si può giocare però servirà steam poi farò un altro video a parte su come scaricare e installare steam e giocando a payday 2 ok è bentato qui è venito allora dai ci siamo strength from payday nostri parte 3 calumicina dai di uscire qua ragazzi ci siamo quasi eccola qui fate ragazzi no cos'è sto qua cos'è cos'è l'altro vediamo no stanno ancora su un po' niente aspettiamo aspettiamo vedete ragazzi che la lingua è in inglese e poi cerco di mettere in italiano cercherò di mettere in italiano qui requisiti gioco supporto guinus 8 io ho l'8.1 però è sempre guinus 8 guinus 7 guinus un precisore di 2 gigahertz dual core poi la memoria di 2 giga di ram io ce l'ho la grafica è minuto di geforce 8800 ok ci ho superiato pure se mi sbaglio memory 1 giga poi ah 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 tra pista andare a memoria ce l'ho live live sound card diretti x 1.0 ma io ce l'11 se mi sbaglio notes allora vediamo se riusciamo a tradurre di visto che sto su web chrome credo che mi può tradurre allora eccolo qua basta installare giocare incluso pace e aggiornamenti possibile cartella non vuole azione vuole fare lingua inglese per la lingua ah bisogna andare su ah il contesto allora andare a cartella al gioco della cartella andare su contesto inglese per langue tedesco lingua french lingua italiana lingua spagnola lingua informazioni vabbè devi fare chiuso l'esternazione gioco gioco l'oriente di dead spot bene ok possiamo mettere tutto l'italiano ragazzi qui intanto abbiamo finito ancora noi ragazzi ho metto l'altro di questo ragazzi io vado un attimo e ci vediamo alla fine del del download ci siamo quasi ragazzi che cacchio sta roba cose mia compazio vabbè dai abbiamo installato dai ci si quasi ragazzo ecco qua play 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 ci siamo quasi ci siamo ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua ecco questo update vedete vedete ma questo è tutto diciamo del profilo profilo di andare su asset mi voglio o no andare asset vi che asset poi track track e ma pi con win 32 bit in 32 bar input stem ma via questa c'era fracca dai noi Quindi ragazzi Ancora l'altro ragazzi Non è successo qualcosa ragazzi Non voglio rischiare Eh cosomai devo Vedete un attimo Soltanto lo chiudiamo Letto di No questa Ah le stelle per lei Allora 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 ragazzi Ma ecco il gioco Vede i due Andiamo qua Ehm Tutto il pc Tutto il pc No 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 Vedete ancora Un'altra regola Un po' Un altro regola Oh ragazzi Ma cosa è che è successo Io voglio capirlo Ecco questo Da tutto per qualche Se hai farsi la clac Non è già claccato Vediamo se riesco a piarlo Aspettate ragazzi Vediamo se riesco a piarlo Cosa succede No Ragazzi Ehm Allora Prima di fare un'altra cosa Ehm Gli stavo Gli stavo Dicendo Allora Io l'avevo provato il gioco Era in inglese Poi ho messo italiano Ehm Vero dopo Come fare Perché sto facendo un casino proprio Ehm Quando riuscire a me Visto che si era bloccata Per esempio Stava sempre download Download Io ho fatto close E l'ho chiuso Non è successo niente Il gioco funzionava Poi ho fatto questi Veri procedimenti E mi è uscito Vabbè Bene ragazzi Ci vediamo al prossimo Video Bella ragazzi Da Un bacio Da No Scusatemi Un bacio Vabbè Ci vediamo Al prossimo video Ciao ragazzi Scusatemi Allora ragazzi Ehm Ho provato il gioco Ehm Allora Per metterlo in italiano Usiamo il tasto destro Apri il percorso file Se vuoi dover sta context Questo qui Fai il tasto destro Apri con Blocco note E uscirà tutta questa scherma Tutti questi codici Voi dovete andare su Ehm False current language E qui ci sarà English E anglish Tra le virgolette Voi dovete cancellare English Però se non tolite le virgolette E se ti tagli A tutti i file Poi salverà quel file Qui ci sarà un file Sempre il context Lo salvate Lo fate su English E il gioco è fatto Sarà in italiano il gioco Ehm Va bene Ci vediamo al prossimo video Ehm Bene Bella ragazzi Ciao